L'amministrazione comunale di Teramo va sempre di più verso una pedonalizzazione graduale del cuore del centro storico. Sono stati adottati alcuni provvedimenti. Uno riguarda il divieto assoluto di fermata intorno al Duomo. Sì, in questo ambiente fatto da Piazza Marti, Piazza Orsini, ma anche via San Belardo e via della Verdura, dove c'è un proliferare di parcheggi strani, li vediamo soprattutto la mattina, di furgoni. Abbiamo definito questa nuova indicazione, ma soprattutto ci saranno diversi stalli per i furgoni. Perché non sarà possibile meno il carico e scarico merci nei pressi della cattedrale? Non si può proprio fermare. Ci sarà via della Verdura in modo particolare degli stalli per il carico e scarico, ma anche in via Delfico, nelle aree limitrofe. Cerchiamo di definire diversi ambiti. In particolare ci sono 22 stalli in più per i carico e scarico, 8 stalli in più per i diversi ambienti abili. Anche qui vediamo a volte qualcuno con la macchina che parcheggia anche ovunque all'interno di questa piazza. Gli daremo proprio degli stalli indicati. E in via Mario Capuani torna il pilomat e la pedonalizzazione dalle 3 di pomeriggio alle 3 di notte. Sì, appunto, questa è un'altra novità. Lì i commercianti addirittura avevano chiesto dalle 10 di mattina, che è una cosa da dire 20 anni fa e quasi da non crederci. Oggi invece sono i commercianti stessi che ci chiedono di pedonalizzare parti importanti della città. Abbiamo trovato un compromesso, perché anche i residenti poi chiedevano altre necessità, quindi dalle 3 di mattina alle 3 di notte. Sappiamo che la Capuani è una via molto vissuta e speriamo che continui a essere tale. Ovviamente sempre nel rispetto reciproco, soprattutto di chi ci abita. A via Vinciguerra cambia il senso di marcia? Cambia lì il senso di marcia, perché appunto quella zona della città per accederci bisognava entrare via Vinciguerra, ma soprattutto via Relli bisognava entrarci da via Oberdan, quindi un giro abbastanza lungo e tortuoso. Invece in questo modo chi sta in quella zona può entrare e uscire subito, senza andare zizzicando all'interno dell'aceno storico. Il tutto entrerà in vigore a partire da quando? La delibera l'abbiamo approvata, adesso bisogna fare le ordinanze relative e poi la segnaletica zona per zona, quindi faremo degli step Corso San Giorgio, via Mario Capuani, le piazze principali, la Vinciguerra, insomma andremo zona per zona. La ditta è già avvertita, cercheremo appunto di farlo ovviamente il prima possibile, anche perché prima migliora l'ambiente urbano in questa zona, prima si dà un diritto maggiore nel diritto dello spazio pubblico che i cittadini vogliono e meglio è anche per tutti quanti per un'amministrazione in modo particolare.